Dall'Istituto Comprensivo di Teggiano e dalla dirigente scolastica Rosaria Murano parte l'iniziativa, condivisa pienamente dal Comune di Teggiano, di intitolare la Biblioteca del Plesso di Pantano a due giovani deceduti prematuramente e residenti nell'omonima località. Federica Tropiano e Mattia Paisano resteranno immortali e il loro ricordo sarà tramandato di generazione in generazione grazie alla richiesta che la dirigente scolastica Murano ha inviato all'Ufficio Scolastico Regionale per l'intitolazione della Biblioteca del Plesso delle Scuole Primarie di Pantano a Federica Tropiano, la giovane 21enne di Teggiano deceduta nel novembre del 2020 per la gravità delle ossioni riportate in un incidente domestico e a Mattia Paisano, il 17enne morto improvvisamente a seguito di una malattia nell'ottobre del 2021. Due giovani residenti in località Pantano che hanno lasciato improvvisamente e inaspettatamente questa vita lasciando nel profondo sconforto l'intera comunità tegianese del Vallo di Diano. Il loro amore per la vita, la loro solarità e le loro passioni vivranno in eterno grazie all'iniziativa proposta dall'Istituto Comprensivo e per il quale il Comune di Teggiano con delibera di giunta dello scorso 22 marzo ha espresso parere favorevole come da richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale. Nella delibera in particolare l'ente comunale guidato da Michele Di Candia ha approvato e fatto sue le motivazioni che hanno spinto la dirigente scolastica Murano, preside anche dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio che Mattia Paisano frequentava al momento della sua prematura morte, a presentare la richiesta di intitolazione della biblioteca del plesso di Pantano. Attraverso l'intitolazione, si legge tra le motivazioni della delibera, si vuole rendere omaggio a due giovani, figli della frazione di Pantano di Teggiano, i quali si stavano affacciando alla vita, che hanno perso prematuramente, alunni che la scuola ha accompagnato nei primi passi verso il mondo. Tra le altre motivazioni espresse, la volontà di far sì che i due giovani siano sempre ricordati da tutta la comunità per il loro amore per la vita, sempre pronti al sorriso, disponibili verso tutti, amati da tutta la comunità che non si rassegna alla loro scomparsa. Così come anche la comunità scolastica vuole che il loro ricordo resti per sempre in una delle aule in cui i due giovani hanno percorso un pezzo di vita, appunto la scuola primaria di Pantano. Inoltre si legge tra le motivazioni per il desiderio profondo che in questo luogo rimanga sempre un po' della loro preziosa essenza e che la loro vita continui attraverso gli occhi e il sorriso di chi parteciperà alle iniziative che ivi verranno promosse. Grazie. Grazie.